Cosa vuole fare? Cosa vuole fare? E' un po' di risposta. Ma perché? Che cosa vuole fare? E che cosa vuole fare? Vuole fare l'acqua? E' un po' di risposta. E' un po' di risposta. E' un po' di risposta. Non non nemmeno fai da un'acqua. L'acqua non la devono toccare? Non la devono toccare l'acqua. E' un po' di risposta che si espostacola e che cosa vuole fare? Mi a fare questa vista. Ma non è la pezza? Ma non è il problema? A gridare contro Berlusconi? E' un po' di risposta.